ecco il video a gran richiesta su come lavare il prezzemolo questo prezzemolo è quello che ho raccolto nel video precedente lo sto lavando sotto l'acqua corrente non sto utilizzando saponi o altre cose perché questo so la sua provenienza è un prezzemolo bio che ho coltivato con le mie manine dentro ad un vaso che ho messo su un balcone quindi sono sicura al 100% che non contiene pesticidi come potete vedere l'acqua corrente mi aiuto con le mani a massaggiare il prezzemolo in modo da levare tutto ciò che non si dovrebbe mangiare e che le foglie accumulano quindi ad esempio granelli di terra sopra le foglioline di prezzemolo ora sto solamente battendo il prezzemolo per togliere l'acqua in eccesso e come potete vedere questo qui è il prezzemolo che ho raccolto per fare la pasta con il tonno e qui potete vedere altri video che ho fatto attorno al mio prezzemolo che ho fatto attorno al mio prezzemolo